Da questa esperienza mi porto a casa il fatto di conoscere molte persone che sono l'edificio accanto al mio, ma che non conoscevo. Sono uscita dall'ufficio un po' stanca e provata e ora invece mi sento molto più leggera e meglio. Considerando che siamo colleghi di lavoro e di solito ci occupiamo di problemi da risolvere, stavolta ci siamo occupati di stare insieme e divertirci. Grazie a tutti!